Voglio rispondere a una prima domanda che è questa. Come faccio a trovare la voglia di studiare senza distrazioni come per esempio il telefono? Allora la domanda mi sembra piuttosto interessante e chiaro che probabilmente chi fa questa domanda parte da un presupposto e cioè che tendenzialmente studiare non sia proprio l'attività più divertente e ingaggiante del mondo perché questo tipo di dubbio per esempio sul giocare alla playstation, giocare a calcetto oppure divertirsi con gli amici tendenzialmente non ce l'abbiamo. Quindi sarebbe la cosa più bella del mondo sarebbe quella di trasformare anche lo studio in una di quelle attività che non vediamo l'ora di fare. Ora voglio dirvi la verità anche se davvero amo studiare ci sono anche delle cose che onestamente mi divertono di più. Però quando riesco a ritagliarmi del tempo per lo studio quello che faccio è assolutamente evitare di avere vicino a me le maggiori fonti di distrazioni che oggi in realtà portano via tantissimo nel nostro tempo ma soprattutto tantissima della nostra attenzione quindi come per esempio il telefono. Perciò per esempio il telefono è una cosa che quando decido di affrontare bene un'ora di studio, una sessione di studio, io metto in modalità aereo così nessuno mi può rompere le scatole. E chiaramente in modalità aereo eviterai che ti arrivino le notifiche di facebook, le notifiche di whatsapp, quindi scegli bene qual è quell'ora in cui se anche non sei disponibile per il mondo nessuno sentirà in maniera particolare la tua mancanza e finalmente dedicati a studiare. Però insomma questa è una indicazione in realtà veramente un po' troppo banale, quindi non è da noi dare indicazioni troppo banali, perciò cerchiamo di capire che cos'è che bisogna fare per appassionarsi così tanto allo studio da non avercelo più nemmeno questo problema, no? Perché quando diventi una persona così appassionata che in realtà non vede l'ora di potersi dedicare anima e corpo a quell'attività non sei preoccupato sicuramente delle fonti di distrazione. Quindi cos'è che bisogna fare? Bisogna imparare a studiare e imparare a studiare secondo quelle che sono le proprie caratteristiche, la propria individualità e chiaramente sfruttando quindi al meglio i propri punti di forza. E' questo proprio che serve in effetti Genio in 21 giorni, no? Non è il semplice corso di memoria che ti insegna due tecniche, ma è proprio quel percorso grazie al quale tu comprendi come fare a trasformare lo studio da un'attività spesso noiosa e faticosa in qualcosa che ti dà innanzitutto tantissima energia, carica e voglia di continuare a fare quello che poi in realtà sei nato per fare, come essere umano sei nato per apprendere. E quindi l'indicazione, quindi abbiamo dato più, diciamo, banale, più semplice è quella di ritagliarsi del tempo in maniera da creare delle sessioni di studio che siano ben organizzate in termini di attività e poi in termini di pause, avendo attorno a te, vicino a te, tutto quello che ti serve per poter studiare senza quindi doverti alzare, perché ogni volta che ti alzi poi dalla tua scrivania, dal tavolo che utilizzi per studiare, chiaramente è possibile distrarsi o comunque è possibile perdere tempo. E poi cominciare, cominciare determinati con un bello obiettivo nella testa, con le idee chiare rispetto a quello che vuoi dalla tua sessione di studio e quindi avendo dichiarato in maniera proprio concreta quale sono le tue intenzioni per la sessione di studio che stai per cominciare. Quindi queste sono le cose che direi come indicazioni più semplici. Grazie.